Video numero 53, venticinquesimo sulle abilità trasversali. Se non hai visto i video precedenti, puoi scorrere il feed fino al primo gennaio e da lì li troverai tutti e seguono la logica di una crescita evolutiva. In alternativa, sul canale YouTube sono suddivisi per aree tematiche. Ma venendo al video di oggi, partiamo da una buona notizia. I dati sulla diminuzione dei contagi aprono finalmente uno spiraglio di luce su quella che sarà la ripartenza, magari tra tre settimane. Chiunque di noi che ha praticato un'attività sportiva e magari rimasto fermo per uno o due mesi, sa benissimo che nel momento in cui riprenderà dovrà farlo con molta precauzione. Se per caso l'infortunio fosse stato particolarmente grave, magari mi sono rotto un crociato cadendo dalle scale, so benissimo che nel momento in cui riprenderò non potrò certamente praticare calcetto né tanto meno tennis. Quando invece si svolge lavoro di tipo cognitivo, tipico del lavoro impiegatizio, siamo convinti di poter ripartire dallo stesso punto in cui ci siamo fermati. Pertanto, se lavoravamo otto ore al giorno, possiamo pensare di riprendere da lì, con lo stesso identico ritmo. Anzi, dal momento che siamo motivatissimi e vogliamo recuperare, magari lavoriamo dieci ore al giorno. Tutto questo è vero se anche il mondo si fosse fermato. Ma quando noi ritorneremo, soltanto in pochissime eccezioni, potremo trovare le cose per come le abbiamo lasciate. Questo per due motivi particolari. Il primo di natura oggettiva, perché la maggior parte delle aziende si ritroveranno maggiormente indebitate. Nella migliore dell'ipotesi potranno ridurre il numero delle ore lavorate da parte dei propri collaboratori, ma nella peggiore dell'ipotesi dovranno licenziare qualcuno. Insomma, la maggior parte delle persone si ritroverà con meno soldi da spendere da qualunque parte. Secondo, per un aspetto apparentemente intangibile, ma con risvolti oggettivi. Ovvero, la mancanza di fiducia si trasformerà in una contrazione ulteriore dei consumi. A questo punto, due domande per te. La prima. Immaginiamo che il tuo prodotto o servizio non sia essenziale per la sopravvivenza del tuo cliente. Come stai pensando di farglielo comprare lo stesso? Seconda domanda. Cosa stai pensando di fare per poter incidere sul suo livello di fiducia, perlomeno nei tuoi confronti? Se ti va di partecipare a questo esercizio di brainstorming, puoi aggiungere i tuoi commenti qua sotto. Ed inoltre, condividendo il video, potresti invitare i tuoi amici a fare altrettanto. Per concludere, voglio ritornare al titolo di questo video, quando dicevo che le risposte sono implicite nelle domande, ma ad una condizione. E la condizione è avere il coraggio di farsi le domande prima che sia il mercato a darci le risposte. Per oggi ho concluso. Se segui questi video, ci vediamo dopodomani. Ciao! Ciao!